Oggi il primo Memorie di Mare, perché insomma le vacanze non sono mica così lontane e quindi incomincieremo con dei gamberi sia fatti a spiedino sia dei fagottini con dentro lardo che secondo me sono buonissimi, poi addolciamo un po' la situazione e facciamo subito un dolce a Maretti e Pesche, poi facciamo una piadina romagnola per due motivi uno perché io sono stata in Romagna tutta l'estate e poi perché l'ospite di oggi perché ogni giorno ci sarà un ospite è Anna Falchi che è romagnola la mettiamo alla prova, cioè proprio tirando la piadina, vediamo come se la cava poi risotto povero ma ricco, povero perché il pesce non si vede, ricco perché si sente una vera delizia e poi ogni giorno avremo un piatto dedicato ai bambini oggi facciamo il gratin di merluzzo che i miei proprio lo spazzolano appena lo mettiamo in tavola e dunque mettiamoci a cucinare